E' corto, insomma Jellov che lo occupa, Jellov si imbolla davanti a Nardi che prova uscire, Jellov 3 a 0, 3 a 0 Montemarchi, Jellov appena entrato, sesto gol in campionato, un regalo però anche questo della difesa della Cesena, più che altro della fase di impostazione che ha portato Jellov in porta a trovare il terzo gol che il Montemarchi aveva già sfiorato in tre occasioni. Alla quarta lo trova Jellov appena entrato.